Se avete riscontrato problemi riguardo al Microsoft C++ Runtime su FIFA 25 oppure problemi di DirectX Air o problemi di schermo nero è possibile risolvere il problema grazie al link che ti ho lasciato in descrizione direttamente sulla pagina che si chiama Microsoft Visual C++ ed eccolo qua, i download più recenti supportati per Microsoft Visual C++ cerchiamo un attimo sopra e andiamo così a scaricare tutti e tre i link una volta scaricati li trovi direttamente o sul desktop oppure nel download ed eccoli qua in questo caso vai a prenderli per 86, prendiamo il per 64 e poi prendiamo la RM64 noi dobbiamo installarli tutti e tre, eseguiamoli come amministratore questo devo ripristinarlo ovviamente lo tengo già installato quindi tu devi solamente installare il pacchetto andiamo su sì, modifica installazione anche questo e quest'altro invece mi dice di installarlo e faccio install se in caso ti da un problema come questo tipo pacchetto di installazione non supportato dal tipo di processore quindi in questo caso se non va prova solamente a installare questi due qua vai a installa, poi una volta installato devi solamente riavviare il computer se invece riscontri altri problemi riguardo a DirectX puoi sempre risolvere il problema sul tasto destro su start, vai su gestione dispositivi vai su schede video, prendi la tua scheda grafica e aggiungi una driver cerchi driver nel computer ed eccolo qua, scegli da un elenco di driver disponibili nel computer e vai così a installare gli ultimi driver rilasciati per la tua scheda grafica questo qua a me risale del 5 di settembre se no puoi semplicemente scaricare applicazioni come Nvidia App l'applicazione sempre in descrizione applicazione Nvidia App che ti permette di scaricare e installare i driver per la tua scheda grafica e non avere sempre problemi riguardo al DirectX e su Windows giorni qua cerchi l'aggiornamento da fare su Drive Game Ready ovviamente Driver Game Ready per chi usa il computer per giocare Studio invece per chi lo usa per lavorare per altri problemi ancora questi tre li puoi anche cancellare per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao